E ci dica le prime strutture che l'Italia sta mandando. Sì, abbiamo inviato quello che si chiamano squadre search and rescue, sono delle squadre di ricerca e soccorso, sono i professionisti del soccorso, in questo caso in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono team misti fatto da personale appunto dei Vigili del Fuoco, personale sanitario, unità cinofile e unità di coordinamento come espresso dal Dipartimento di Protezione Civile e insieme, in questo caso con l'aeronautica militare, quindi tramite la difesa abbiamo trasferito queste risorse, queste persone, questi professionisti sul territorio turco, sono arrivati questa notte e oggi hanno già preso contatti con le autorità locali, sono stati dispiegati circa 100 chilometri dall'epicentro e adesso gli verrà assegnata un'area operativa e su quello si inizierà le prime operazioni di ricerca e soccorso insieme a tutte le altre squadre.